Sembrerebbe essere pronta a ripartire nel mondo della tv italiana la bella Asia Argento. Infatti pensate che Maria Di Filippi sarebbe alla ricerca di un futuro, chiamiamolo giudice, di amici. E tra i tanti nomi che sarebbero stati proposti ci sarebbe anche quello di Asia Argento, che la giudice di X Factor, quale è stata, potrebbe diventare giudice di amici, di Maria Di Filippi. Il talent show che continua ad appassionare e a tenere banco, oltre che in tv, anche sulla carta stampata. Quindi potrebbe essere il futuro giudice, la bella, brava e simpatica Asia Argento, stando alle indiscrezioni che sarebbero presenti nel web, che direbbero che ci sarebbero dei trattativi aperti tra la bella conduttrice Maria Di Filippi e la bellissima attrice italiana, figlia di Dario Argento. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo sarebbe quanto è bene utilizzare il condizionale.